e allora buongiorno buongiorno a tutti devastate di like questo video condividetelo con tutti guardatevi video fatti ma quest'oggi sono ritornato a casa siamo al ritorno a casa alla partenza come diceva il buon youtube anch'io sono tornato a casa e voglio un po parlarvi della mia esperienza allo stadio della fiorentina perché sono successe cose di grande fomento il calcetto in vista della prova di quest'estate ok alla possibile youtuber summer league di devasto e poi analizziamo la situazione juventus allora come avrete visto da instagram anche dalle foto che ho pubblicato qui in cover dopo fiorentina roma ho avuto la fortuna all'ingresso all'ingresso trionfale dello stadio franchi di incontrare tutta una selva di protagonisti del fare calcio fiorentina con cui mi sono fatto le foto scambiato anche alcune parole ho trovato gio e barone al quale abbiamo abbiamo rinverdito il biraghismo ho trovato sottile con cui avevo già avuto modo di interloquire disponibilissimi sia gio e barone che il buon riccardo sottile ho trovato barack col quale mi sono fatto la foto che è veramente un gigante dal vivo io non sono basso sono 1 85 arrivavo praticamente alle alle spalle di barac è veramente altissimo barack di persona ho visto castrovilli ho fatto la foto con icone dodò di una simpatia pazzesca ha fatto la foto sorriso gli ho chiesto dove fosse biraghi mi ha detto adesso esce ho fatto la foto con il cap assolutamente che aveva un cartone della pizza in mano nostrissimo erano tutti la fuori ovviamente nel post partito ho anche fatto la foto con soffiano con con soffiano amrabat poi ho visto igor ad una certa è uscito dall'ingresso quello dal quale entri allo stadio è una montagna igor cioè veramente una cosa ci aveva una canottiera una canotta ignorante ok con con un cappellino un colosso una roba gigantesca oscurava oscurava lo spazio poi c'era anche cabral ho fatto la foto con con jovic molto posato molto stato veramente una gran bella esperienza c'era anche alberto di chiara ex giocatore della fiorentina veramente veramente disponibilissimo simpaticissimo veramente una una bellissima esperienza specie quell'interscambio con barone devo dire che mi ha anche concesso di fare il video il buon joe da barone è stata veramente veramente una bella esperienza inaspettata perché non mi aspettavo che fossero poi tutti lì presenti e poi c'è stata anche la seconda parte del soggiorno che è coincisa con una bellissima partita a calcetto che abbiamo fatto con la formazione canonica di quelli che dovrebbero essere i protagonisti poi quest'estate del torneo eravamo io flavio ogni santi romero ed emanuelson e ho provato cose vi devo dire la verità ho provato cose io era era da tanto tempo che non giocavo a calcetto oltretutto non avevo neanche le scarpe da calcetto avevo le vesciche sotto i piedi nonostante questo abbiamo giocato quasi un'ora e mezza e ho provato cose devo dire perché mi è stato dato questo ruolo di punta di bomber diciamo vecchio stile adattato lì ho provato cose veramente ho avuto proprio mi sono fomentato con la rovesciata con con i gol sottoporta con i movimenti e ho detto cazzo questo ruolo qua questa questa questo ruolo in questa squadra con questi interpreti è fatto per me è fatto per me adesso sono fomentato e assolutamente mi allenerò mi allenerò per per performare veramente in modo devastante e voi punto alla classifica cannonieri punto assolutamente alla classifica cannonieri perché ieri ho fatto due gole un assist tre gol con i calci di rigore che ho trasformato il calcio di rigore ho sfiorato due volte il gol in rovesciata ho fatto una punizione che per poco non andava in porta potevo segnare anche altre volte veramente mi sono ho provato cose ho provato cose totalmente inaspettate perché ho detto è da due tre anni che non gioco a calcetto poi ho 31 anni c'è gente che è più giovane che gioca con me sono fumatore e quindi ho detto che invece invece mi sono veramente fomentato alla grandissima quindi per quest'estate lo dico punto alla classifica capo cannonieri punto al trofeo piccichi del torneo detto questo veniamo al calcio quello quello vero quello quello di serie a beh avrete letto che c'è la notizia bomba del del futuro dell'atalanta oggi tutto sport se ne uscita dicendo gasperini e saluti il futuro dell'atalanta può essere gerardo seoane è un nome caldissimo lo stesso ottis se vi ricordate in qualche live fa venne qui e disse l'atalanta per l'allenatore può cercare un profilo internazionale il nome sarebbe quello sarebbe ragazzi gioconda calcio mercatistica del canile più anche di tonali al milan perché gerardo seoane all'atalanta penso che neanche l'atalanta pensasse a gerardo seoane all'atalanta noi è da un anno che ne parliamo e sarebbe veramente proprio una puntatina una puntatina gioconda una gioconda calcio mercatistica alla quale potrebbe difficilmente lega intrecciarsi il discorso di un gasperini alla juventus che pure a me affascinerebbe però penso che con quel discorso di vlaovic i dubbi che alla juve non lo so staremo a vedere detto questo se uno vede i due anni di allegri è inutile girarci attorno allegri non merita la riconferma allegri parte che sapete che neanche l'avrei chiamato l'avevi mandato via prima e tutto però allegri secondo me non non merita la riconferma per quello che si è visto la juve ha fatto un disastro di sconfitte risultati inaccettabili zero titoli zero gioco poca valorizzazione dei giocatori poche cose positive la champions di quest'anno ieri di maria fischiato allo stadio ci sta però è solo la spia di uno dei tanti problemi della juventus di quest'anno un altro problema però è che faccio fatica in questo momento eccettuata la suggestione gasperini a recepire un allenatore e magari nei commenti potreste aiutarmi anche voi se ci avete qualche nome ma sono sicuro che qualsiasi nome facciate non mi convincerebbe nel senso non ci sono nomi in questo momento storico della juventus di allenatori tra quelli che girano che mi fanno dire beh se arriva questo la juve fa un grande salto di qualità oppure mi sconfitte a 360 gradi come la juve doveva cambiare allenatore prima doveva cambiare allenatore quando era interessata al calciomercato doveva cambiare allenatore quando questa tempesta qui doveva ancora arrivare doveva cambiare allenatore probabilmente quando lo status europeo poteva permetterle di fare una scelta anche importante e capace di portare con sé delle scelte importanti anche a livello di calciomercato di status con giocatori funzionali oggi leggo i nomi di chi di tudor di grosso rischia di essere una scommessa molto 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 importante cioè una tutti i nomi che non ti danno l'idea di una risoluzione dei problemi che alla juventus anche perché i problemi della juventus non riguardano solo l'allenatore riguardo anche l'allenatore per il campo riguardano soprattutto all'allenatore ma nel momento in cui devi avviare una progettualità nuova hai anche bisogno di alcune sicurezze dirigenziali devi capire in che contesto opererai se farei l'europa quale europa la juve è una grande nebulosa dalla quale ad oggi si parla di un possibile addio di allegri ma i nomi del post allegri di quelli che ho letto io non sono assolutamente nomi per adesso risolutivi c'è sta suggestione nagelsman ma chi ti dice che nagelsman in italia saprebbe agire con il calcio che si fa qui è giovanissimo lo stesso tudor si buon allenatore però tudor c'era anche quando c'era pirlo e compirlo andata come andata giovane anche lui buoni campionati profilo interessante per carità potrebbe fare bene però bisogna vedere anche che squadra gli dà in mano quindi non è che vedo grandi nomi mi viene da fare una provocazione visto che a mio avviso lo sbaglio primigenio della juventus è stato quello di allontanare sarri ieri ho sentito parlare sarri che tra l'altro è l'unico allenatore che io ascolto di cui ascolto le conferenze stampa di quelli che sono rimasti è l'unico allenatore di cui sentono conferenze stampa perché e me l'ascoltavo anche alla juve perché è l'unico che parla di calcio è l'unico che ti dice le cose non solo pane al pane vino al vino ma è uno che proprio parla di calcio parla di giocatori parla di schemi parla di tattica parla è veramente forse l'unico l'unico personaggio di calcio che mi piace ascoltare e poi vedete anche i risultati cioè la lazio quest'anno arriverà minimo terza minimo terza se va male arriva terza io non so da quanti anni è che la lazio non arrivava terza penso solo l'anno post calciopoli sennò bisogna risalire a cragnotti e non è che non è che avesse una squadra da terzo secondo posto è sarri è un diesel sarri è un suv di campagna diesel che se gli dai il tempo di avviare di mettersi in moto di macinare una volta che è ingranato parte parte va travolge come ha fatto quest'anno cioè e qui mi viene da dire secondo me l'errore principale la juve l'allenatore da crescita l'allenatore di calcio l'allenatore valorizzatore tra l'altro che aveva anche vinto alla juve non solo ce l'aveva in casa l'errore principale è stato quello di mandarlo via come vi ho sempre detto in questi anni continuo a crederlo e mi viene da lanciare una provocazione ieri ho sentito sarri dicevo per me non l'ha detta come per dire vado via dalla lazio ha detto però adesso ci sederemo ad un tavolo ci sarà la champions e vedremo quali saranno i piani vedremo quel che si vorrà fare se non ci sarà intesa ci si può anche salutare ha detto una roba del genere può essere anche che ci si debba salutare parole che un po di eco ce l'hanno avuta un bel ritorno di sarri alla juve è un bel ritorno di sarri alla juve sarebbe anche giusto per certi versi ti sei liberata di questa stagione agnelliana che con tutto e richiamare sarri sarebbe anche una una pepitiella revanchista in vista di quello che è stato con 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 sott'occhio quella che è stata l'inizio della fine dell'era agnelliana no un ritorno di sarri alla juve per dare concime calcistico ad una squadra che magari non farà l'europa ad una squadra che ha bisogno di acquisire una mentalità magari una suggestione molto probabilmente non avverrà però paradossalmente se uno guarda allo sbaglio di averlo cacciato alla necessità di magari cercare un allenatore nuovo che sia un attimo scafato alla penuria di nomi perché anche lì tutti i nomi giovani oltre a farti venire dei dubbi dal punto vista calcistico bisogna anche vedere se è gente che poi c'ha il carattere che ha la forza per vivere una stagione che magari può essere travagliata in cui magari possono venire fuori sorprese in cui ci possono essere degli strascichi per tutta l'estate e devi preparare una stagione con in testa chissà che tipo di destino non so se un allenatore giovane di primo pelo possa avere sto tipo di 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 capacità per star dietro ad un impegno del genere qui bisogna vedere a se allegri va via che sarebbe giusto sarebbe giusto sportivamente parlando però se non dovesse andare via allegri io dei nomi che fanno non è che me ne convincano tanti non me ne convincono in tanti quindi vedremo quel che succederà ditemi cosa ne pensate ciao